Le Marche Un grande evento di promozione culturale per dare sostegno e maggiore visibilità ai musei marchigiani. Come? Attraverso un logo solare e positivo che valorizza gli aspetti più friendly dei musei, avvicinando culture e generazioni diverse. Con un approccio di comunicazione integrata e multisoggetto, in grado di esplicitare i benefici per i diversi target, cittadini, studenti e turisti. E con una comunicazione teaser pensata per i differenti media, più descrittiva per gli annunci stampa, di impatto comunicativo per le affissioni pubblicitarie, spiritosa e divertente per il web. Ciao, sono Luigi e studio a Firenze. Ho scoperto che i musei delle Marche li migarbano parecchio. Oggi alla Pinacoteca Civica ho visto un quadro con un ritratto bellissimo. Poi ho scoperto che era uno specchio. Adoro i quadri di gattugi. A supporto anche un portale dedicato con tutte le informazioni utili sui musei aderenti ad Happy Museum e gli eventi in calendario. Oltre a una pagina ufficiale su Facebook e Twitter. Aggiornata in tempo reale, con news, foto e video interviste, realizzate da uno staff di inviati speciali presenti su tutto il territorio marchigiano. Con Happy Museum i visitatori sono aumentati. Tutte le iniziative che spingono la cultura, soprattutto del territorio, sono necessarie, no? Utili. Noi abbiamo visto nelle iniziative che noi abbiamo promosso con la, diciamo, targa Happy Museum molto pubblico. Una vita culturale raccolta e documentata anche in una ricca rassegna stampa. Frutto di un'intensa attività di ufficio stampa 2.0 sui media regionali e nazionali. E in più, un'app gratuita per Apple e Android, che coinvolge l'utente in un vero e proprio viaggio virtuale. Con la guida ai musei e agli eventi, è un'innovativa caccia al tesoro all'interno dei musei che utilizza la realtà aumentata. I risultati? E tanti articoli pubblicati sulle principali testate regionali e nazionali. Oltre a molti sorrisi in più. Marca Happy Museum. Impara a divertirti.